Ben, si, to, mi, za, i, zu, i, gish Buonasera a tutti e ai nostri telespettatori e ultimi aggiornamenti dalla striscia di Gaza Le nostre fonti ci hanno informato che l'esercito israeliano dalla città di Kades Barnea ha puntato su Ezion-Geber per poi dirigersi con le sue truppe all'interno di Punon per poi puntare sul Monte Nebo dove sembra ci siano alcune fortezze di guerrilieri